Cari lettori e lettrici, la novità letteraria che sto per presentare è un romanzo storico, che si concentra sulle vite delle ragazze e dei ragazzi durante la Prima Guerra Mondiale, in particolare sulle giovani donne impiegate presso la fabbrica Satter e Tevenot in Lombardia. Leggere questo libro è importante perché offre una prospettiva umana e intima di un periodo storico cruciale e mette in luce le vite spesso ignorate delle donne impiegate nelle fabbriche. Durante la guerra e dando voce a un episodio tragico ma significativo. La trama del libro La fabbrica delle ragazze della scrittrice Ilaria Rossetti, casa editrice Bompiani, è la seguente. Al centro di questo romanzo ci sono le ragazze, con i capelli al vento di chi attraversa la campagna in bicicletta, con le guance scavate perché il cibo scarseggia ma gli occhi ardenti di chi ha tutta la vita davanti, con le dita sottili che sono perfette per costruire le munizioni. Infatti, durante la prima guerra mondiale, la fabbrica Sareo e Tevenot sceglie proprio la campagna lombarda per installare, a Castellazzo di Bollate, uno degli stabilimenti dove centinaia di donne giovanissime fanno i turni per rifornire i soldati al fronte. E poi ci sono anche loro, i ragazzi, allontanati dalle famiglie e dal lavoro per andare a far carne da macello nelle trincee. Con i cuori pieni di nostalgia e pronti ad accendersi quando arriva una cartolina vergata da una grafia femminile, come succede a Corrado che per amore arriva alla diserzione. Ma è il 1918, la storia sta accelerando. È così che Emilia, la piscinina, la mattina del 7 giugno saluta i genitori senza sapere se li rivedrà. Perché una grave esplosione investirà la fabbrica causando decine di vittime, quasi tutte donne e bambine. La produzione però riprende subito. In tempo di guerra le vite umane contano ancora meno del solito. È così che Corrado e il padre di Emilia, Martino, con sua moglie Teresa dovranno accettare che la realtà è più dura dei sogni e il tempo scorre indifferente come il seveso sotto il grande cielo. Con una lingua intensamente poetica e venata di dialetto senza mai indulgere nella maniera. Ilaria Rossetti racconta un episodio quasi dimenticato e più che mai attuale di lavoro femminile e morti bianche. Prima di lei, fu Ernest Hemingway a parlarne in uno dei 49 racconti. In queste pagine la storia vera dell'esplosione della fabbrica Satter e Tevenot di Bollate, che uccise 59 tra operai e operaie, da testimonianza si fa romanzo e attraverso le voci di tante piccole vite e non smette di chiederci ascolto. Grazie per l'attenzione e buona lettura. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensi della trama del libro presentato. Se hai voglia di condividere il tuo pensiero lasciami un messaggio. Celebra la magia della lettura condividendo questo video e aiutami a diffondere l'amore per i libri. A te non costa nulla, per me sarebbe un bel gesto di gratitudine. Ricorda, ogni piccolo gesto può fare la differenza. Per non perdere le novità letterarie iscriviti al canale.